ciao a tutti ragazzi qui andiamo qui con un nuovo video di un unboxing dei nerf perchè come sapete voi i nerf non mi piacciono come potete vedere e poi siamo qui con un unboxing perchè oggi siamo andati a toys e mi ha comprato tante cose vai far vedere l'unboxing ma questo qua con due caricatori da 12 qualcosa non so se si vede adesso lo apriamo così lo vediamo ecco questo qua che si può girare in cosa poi c'è un cannocchiale abnorme direi il cavallo io lo chiamo così e questa canna qua quindi vai stoppa vediamo se mamma ha capito come si stoppa a dopo iniziamo con i due caricatori così faccio vedere subito cosa stavo per dire cosa dicevo prima la segretta con lo scotch eccolo avvicinati un po ma no e se no non si vede niente no si vede più ragazzi dov'è lo scotch e sullo slato andrea scusate troviamo troviamo ecco ci siamo quasi adesso farà quel rumore che a me non mi piace proprio per niente ah ecco qua abbiamo Scusate ragazzi, ok, primo tagliato, oddio, ok, è veramente duro, questo qua intendo dove si possono togliere, spero, vabbè, fallo dopo, prendi i colpi, apri l'altra scatola, poi vediamo, per questi non so quanti sono, spero 24, spero proprio 24 perché per i due caricatori da 12 24, oh madonna, apri l'altro, adesso siamo con seconda bozzi, questo qua è il mio preferito, allora, vabbè lasciamo stare, blocca un attimo, a dopo, ok, ok, tiriamo, riappiamo di nuovo qua, senza fare i fail di prima, mai le forbici verso di te, ma non ce l'ho verso di mamma, certo, le stai tirando verso di te, e allora come lo faccio all'aprire, dall'altra parte, faccio così, ok, poi ci sto facendo le mani, sono ti tagli il dito magari, ok, che male, che felice, ok ragazzi, mi so che non si sarà sentito niente, perché ho parlato piano, adesso parlo più forte, oddio, questi qua sono molto più facili, questo qua guardate, non so se vedete però, madonna, poi la canna, ecco qua, bella pure questa, bellissimo, e adesso, il pezzo forte ragazzi, ah, sono anche qua, non l'avevo vista, oddio, come che spacco il nerf, certo questo, ok, troppo figo, così lo metti, sono lì per le forbici, bello, 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 senza tagliarmi il copridimano, ok, per questo video è tutto, adesso metto, ce l'ho da sottocarica, poi facciamo la battaglia, io contro mamma, con queste cose nuove, aspetta, prima devo riuscire a togliere, oh, la pancia, stacco, eh, stacco, ma si dai, al prossimo video, Ciao a tutti i ragazzi, qui Andrea, siamo qui con un nuovo video, seconda parte dei nerf, oddio, stai lontanato con quel nerf, ti prego non sparare, non sparare, vai avanti, fammi fare la intro, fammi fare la intro, vai avanti, in questo secondo, in questo secondo, cosa, 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 dove ci ammazziamo con le nerf, capito, grande, ci vediamo nel video, io mi sto qua, quindi, eh, se ti spagnavo, eh dai, questo si vienge il foto, ecco, questo qua, questo qua è pieno delle cose nuove, con la canna, il canocchiale è queste poche cose, guarda, massima, aia, aspetta, stop, un attimo, stai lì, stai lì, stai lì, non ti muovere tu, non ti muovere, fermo, immagine così, fermo, scusate ragazzi, ma non è tanto bravo con i nerf, infatti abbiamo cambiato il nerf due volte, perché si sono ceppate tutte e due, non si vede nulla, comunque, aspettate, oh le, chissà cosa è successo, è una foto mia, chissà perché la scura, capì al nerf, ci sei? aspetta, ok, no, Andrea, Andrea, di là, eh, capito, Andrea, ma hai sfiorato un orecchio, ah, cambiare? mamma, lo sparerà molto perché c'è tanto, dai, dai, aia, aia, dai, sparassi nel calaccio, oh, aspetta, ah no, sì, sto riprendendo, stai riprendendo, ok, stai piannato, ma, stammazzo, adesso il mio è la testa, mi hai già beccato in testa, grazie, eh, lo sto, oh, aia, no, 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 ah, cos'è stai? minaccia, ah, 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 devo per cambiare, zio, stai, ci sono due colpi cassa di qua, sono due, due, cinquecento, e due, ci si, niente da fare, vabbè, allora vi divertite a far male a mamma, aia, ma non così di dritto, abbiamo detto che sparavi di là, aia, sta andando quello, dai, spero che vi siete, vi divertite, eh, sicuramente no, ah, voglio, c'è un mio amico che fa youtuber, che ha 60 iscritti, che si chiama, aspetta, vediamo, perché c'è un, si chiama Mattia, c'è un nome stato, non ti sospetti, che mi ricordo, Matt, è tutto attaccato, Matt, al posto dell'altra T, di Mattia, della doppia T, c'è il 7, e poi la I, e la, boh, iscrivetevi, poi anche lui, dovrà, di, deve dire così, forse, sei così, continuo a allontanarmi, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, e al prossimo video.